ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale oggi vediamo insieme come realizzare dei mercuriali natalizi sono mercuriali in legno con quattro soggetti diversi vengono venduti a kit all'interno del quale noi trovate uno per soggetto quindi questi quattro andremo a decorarli attorno lavorandogli all'uncinetto con della fettuccia quindi vi occorre anche una bobina da 400 grammi di fettuccia bastano per realizzare tutti i quattro i mercuriali ne avanzate ancora e andremo a lavorarli con due uncinetti un tre e mezzo con cui andremo a fare il primo giro per passare nei fori e poi un numero 7 con cui andremo a lavorare tutto il resto quindi questo è l'elenco del materiale come sempre li potete acquistare sul nostro sito www.merceriamare.it e queste sono diciamo alcune delle novità che abbiamo proposto noi quest'anno per natale quindi trovate nella sezione kit natalizi tutto tutti quanti questi prodotti insieme ad altre decorazioni che abbiamo sempre realizzato sotto forma di kit trovate tutto il materiale allora ogni mercuriale andremo a realizzare in un modo diverso quindi la decorazione attorno sarà fatta in un modo diverso partiamo da questo che forse è il più semplice parto con l'uncinetto tre e mezzo faccio non faccio un cappietto in realtà mi inserisco nel foro qui in centro aggancio il filo lo estraggo e vado a fare una maglia bassa dopodiché punto nel foro a fianco e vado a fare una seconda maglia bassa quindi per ogni foro faccio una maglia quindi procediamo in questo modo lavorare una maglia bassa per ogni punto fino al termine del giro arrivato il termine del giro vado a cambiare uncinetto mi raccomando cambiatelo perché altrimenti quel tre e mezzo è troppo è troppo sottile va bene solo giusto fare il primo giro dopodiché vado a inserirmi qui nel punto di inizio e vado a fare una maglia bassissima dopodiché procedo puntando nei seguenti punti e andando a fare una maglia bassissima per ogni punto sottostante quindi bordiamo ulteriormente la nostra pallina la nostra decorazione natalizia facendo un giro di maglia bassissima che crea una costina in righievo vedete in questo modo quindi procediamo a fare un secondo giro a maglia bassissima una per ogni punto sottostante una volta terminato il giro l'ultimo punto vado ad allungare l'asola che sarà poi quella che ci permetterà di appenderlo al nostro albero dopo qui vado a fissare il il filo facendolo passare nascondendolo ma possiamo tagliare e abbiamo terminato il primo esempio di mercuriale quindi questo siamo partiti dal più semplice e resta in questo modo poi vi faremo vedere come noi li abbiamo decorati ulteriormente con perline fiocchetti e quant'altro però la lavorazione all'uncinetto appunto è questa adesso passiamo al mercuriale col babbo natale sempre molto semplice come si realizza e adesso lo vediamo quindi di nuovo andiamo a prendere l'uncinetto tre e mezzo ci inseriamo sempre qui in punta in modo che avete capito che poi finiamo qui dove andremo a fare il pendaglio quindi ci inseriamo sempre in questo modo voilà e anche qui andiamo a fare una maglia bassa per ogni foro esattamente come prima tutti i mercuriali partono con questa base quindi una maglia bassa per ogni foro sottostante quindi procediamo in questo modo arrivati al termine del giro cambiamo uncinetto andiamo ad unirci qui nel primo appunto facendo una maglia bassissima dopodiché proseguiamo facendo due catenelle saltiamo un punto sottostante quindi nel mio caso è questo punto nel secondo e faccio una maglia bassissima voilà poi facciamo di nuovo due catenelle saltiamo una maglia sottostante che questa qui punto nella seconda e facciamo una maglia bassissima proseguiamo in questo modo per tutto il giro quindi due catenelle salto un punto di base vado nel successivo e facciamo una catenelle vedete che si crea questo piccolo festoncino ripeto per tutto il giro questo è il risultato finale stessa cosa qui allunghiamo la solina di lavorazione vedete che era così la allunghiamo in modo che diventi diciamo il nostro appendino tagliamo il filo e poi andiamo a farlo passare sull'uncinetto e sconderlo dopo quindi anche questo abbiamo finito il secondo mercuriale per quanto riguarda invece questo questa pallina questa decorazione natalizia ho fatto il primo giro sempre una maglia bassa per ogni foro esattamente come abbiamo visto per gli altri quindi il procedimento di inizio è uguale per tutti e quattro cambia diciamo il secondo giro che è la variante il motivo finale per questo andiamo a lavorare una maglia bassa nel primo punto e sempre in questo primo punto andiamo a lavorare anche una mezza maglia alta in questo modo nel punto a fianco andiamo a fare una maglia bassa in modo che si crei diciamo scendi sali scendi questo diciamo motivo quindi adesso nel punto a fianco di nuovo andiamo a fare una maglia bassa e una mezza maglia alta nello stesso punto e nel punto a fianco andiamo a fare una maglia bassa vedete? si crea questo smerlo dobbiamo alternare la sequenza per tutto il giro quindi in un punto lavoriamo sempre una maglia bassa e una mezza maglia alta e nel punto seguente una sola maglia bassa quindi alterniamo questa sequenza di punti per tutto il giro guardate questo è l'effetto finale del pestoncino e anche qui abbiamo realizzato il terzo mercuriale adesso vediamo come realizzare l'ultimo quindi partiamo sempre facendo il primo giro con una maglia bassa per ogni foro e poi vi faccio vedere la lavorazione questo forse è quello leggermente più complesso ma niente di insurmontabile l'ultimo mercuriale è quello leggermente più complesso perché prevede la realizzazione di questi pippiolini che richiamano un po' l'asserisco ma nulla di complicato adesso vediamo appunto come fare allora partiamo avviando due catenelle che saranno diciamo la nostra base dopodiché da qui ne realizziamo altre tre quindi uno, due e tre che andiamo a chiudere con una maglia bassissima su se stesse quindi puntiamo all'indietro nella terza vedete in questo modo sono entrata con l'uncinetto e chiudo facendo una maglia bassissima voilà ed ecco che abbiamo fatto il nostro primo pippiolino dopodiché facciamo altre tre maglie tre catenelle scusate tre che andiamo a chiudere questa volta puntando nella prima catenella di base in questo modo adesso facciamo le ultime tre catenelle quindi una, due e tre anche qui andiamo a chiuderle nel nostro punto di base ed ecco che vedete abbiamo realizzato il pippiolino adesso andiamo a congiungerci di nuovo qui con una maglia bassissima e facciamo a seguire altre due maglie bassissime quindi una e una due per spostarci vedete in questo modo abbiamo realizzato il pippiolino questi tre pippiolini ci siamo spostati adesso siamo pronti a fare un un altro diciamo di questi motivi quindi di nuovo vediamolo ancora una volta assieme facciamo due catenelle facciamo due catenelle poi a seguire ne facciamo altre tre puntiamo all'indietro nella terza e chiudiamo facendo una maglia bassissima a seguire altre tre catenelle chiudiamo puntando nella catenella diciamo che abbiamo fatto la seconda catenella che abbiamo fatto in questo modo e adesso facciamo di nuovo un'ultima volta 3 catenelle e andiamo a chiuderle nello stesso identico punto di prima voilà e ci ricongiungiamo alla base con una maglia bassissima a seguire facciamo altre due maglie bassissime e dopodiché ripetiamo il procedimento e proseguiamo alternando questa sequenza per tutto il giro quindi vedete che io qui nel quello che ho già fatto ne ho realizzati 3, 6, 7, 8 ok? in questo modo adesso appunto il risultato del mercuriale è finito qui ho chiuso facendo una maglia bassissima lascio di nuovo la mia azola e posso andare a staccare il filo dopodiché i mercuriali possono essere abbelliti a piacere ad esempio questo qua come vi facevo vedere prima l'ho abbellito mettendogli le perline e questo giro di passamaneria poi gli altri anche li ho imprezzositi in altri modi e li ho decorati ancora a piacere quindi potete lasciarli così potete farlo col colore della fettuccia che più vi piacciono potete imprezzosirli ulteriormente con perline, nastri, fiocchetti e quant'altro ok? questo va un po' a vostro gusto va bene? quindi questo è quanto sono quattro modi per poterli fare dopodiché si possono fare anche lavorando il cordino per borsa ad esempio oppure utilizzando la lana non necessariamente la fettuccia per chi non è capace di lavorare l'uncinetto o se volete farlo fare a dei bambini ad esempio con le dita possono far passare del nastro nei fori e quant'altro quindi si possono decorare veramente in tantissimi modi questo è solo uno dei quali ed è la nostra diciamo proposta spero che vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commenti se provate a realizzarlo c'è il gruppo di facebook Mari e le mie uncinettine dove aspettiamo di vedere le vostre foto un bacione, ciao!